ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video ragazzi oggi parliamo di bms allora bms sai già cosa sono se segui il canale uno di voi qualche tempo fa perché purtroppo ragazzi dovete capire che ho tantissime cose da fare non riesco subito a soddisfare le vostre richieste questo lo so però abbiato un po di flessibilità mi aveva chiesto questo ragazzo differenza tra dual port e o common port perfetto cosa differisce una bms dual port o con port common innanzitutto vuol dire comune porta comune porta comune quale porta non la porta dell'appartamento ovviamente ma porta di ingresso uscita cioè ricarica ragazzi ricarica i cavi di ricarica e i cavi di uscita cioè al motore alle luci sono tutti in un unico segmento dual port invece cos'è è una bms che ha separati i cavi di ricarica e il cavo di uscita la bms è formata così dual port ha un cavo negativo di ricarica un cavo negativo di potenza cioè dove esce la l'energia ecco l'energia elettrica qua mettiamo la freccia per qui e qui mettiamo la freccia così così vedi che qua esce e qua entra e più a il cavo che va al pacco batterie batteria tutto ovviamente ragazzi negativo perché tutto negativo polo negativo 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 il positivo va preso diretto alla batteria batteria meno batteria più questo è il più e quello è il meno invece common port è molto più semplice a me piace tantissimo infatti io la utilizzo quasi sempre però in alcuni contesti forse meglio la porta separata dipende poi dal progetto che hai da fare a polo 1 polo due due cavi positivo negativo qui va sia r cioè ricarica che p la potenza due poli ok potrai andare a connettere sia ripeto sia il carica batterie che l'uscita verso il tuo motore c'è due cavi che fanno tutto sia carico che scarico qui invece hai due cavi per la ricarica due cavi per l'uscita lo scarico e in più ai cavi per la batteria quella che va appunto a connettere la batteria in una bms standard ci sono due cavi di potenza che fanno tutto loro in più poi a ci sono i cavi ovviamente di bilanciamento questa nello specifico è una bms di potenza con b meno e p meno cioè common port qui va la batteria qui va la potenza con la qui cioè l'uscita però nello stesso tempo ragazzi su questa p puoi andare a mettere anche la ricarica perciò come vedi un solo cavo che ti fa sia da ricarica che da scarica in tutto ovviamente come visto qui preso anche il positivo perché ci va anche il positivo perfetto così e ai più e meno questa va alla batteria e qui ci sono i pin per il cavo multi multi cavo molti cavetti per fare la bilanciamento ecco il vero e proprio bilanciamento parte da qui col negativo e va a finire qui col 13 s l'ultimo cavo 13 s questa è una da lì 13 s 48 volt 60 ampere eccola qui se questa fosse stata dual port avrebbe avuto un altro cavo di questo più piccolino qui che c'era scritto r ricarica perciò io dovevo sfruttare quello centrale per ricarica dovevo sfruttare questo per l'uscita e questo va sempre alla batteria perciò come vedi molto più semplice il sistema niente ragazzi se ne vuoi sapere di più sulla tecnologia litio sulle batterie bms customizzazione pacchi batterie livio ti invito al mio webinar cost online batteri maker power wall maker sono due dei miei corsi attualmente attivi sotto in descrizione trovi tutti i link ti invito ad abbonarti al canale per poter accedere anche al gruppo facebook riservato agli abbonati ragazzi tantissimi contenuti che non posso ovviamente mettere su youtube su youtube non posso andare a caricare video tutti i giorni piccoli spezzoni di video foto album fotografici pdf invece sul gruppo dedicato ai cold member ho libera scelta di pubblicare qualsiasi cosa voglio è infatti come vedrai dal momento in cui ti abbonerai ci sono tantissimi contenuti e esclusivi solo per voi abbonati niente ragazzi per questo video è tutto ciao e al prossimo video